buongiorno bentornati al lamento del mattino tre cose che hanno più o meno senso nella mia testa ma che poi lette ad alta voce potrebbero rivelarsi una gran fregatura oggi sono tornato live anche su instagram perché voglio parlarvi di un tema che ormai mi sta molto a cuore e che credo che abbia necessità di essere spiegato nella maniera più semplice lineare e immediata possibile perché purtroppo su alcuni media invece vanno in onda un po delle sciocchezze cercherò di essere breve cercherò parlare cercherò di parlare di di immuni nella maniera più breve semplice e pacata possibile mi sono fatto una doccia mi sono rilassato mi sono pettinato mi sono legato i capelli mi sono anche pettinato la barba prometto di essere davvero tranquillo allora se volete seguirmi su facebook instagram chiedo scusa su facebook youtube twitch e anche su lamento punto live li vedrete le schermate di cui vado per a parlarvi tra poco e magari insieme possiamo arrivare a capire qual è la realtà di questa situazione allora andiamo alle notizie di oggi quindi per farlo fare f3 eccoci qua allora questo sito di immuni spieghiamo rapidamente che cos'è immuni immuni è la app studiata dal dall'italia dal governo italiano lo stato italiano per il cosiddetto contact tracing che cos'è il contact tracing nella lavorata ipotesi ci si ammali di covid 19 che è una malattia molto con una capacità di contagio simile a quella del dell'influenza e così via è necessario ricostruire il i contatti che abbiamo avuto nelle settimane precedenti in cui probabilmente stavamo incubando il virus quindi eravamo ammalati già contagiati ma non eravamo eravamo già contagiati ma non eravamo ancora ammalati come si fa il contact tracing beh innanzitutto si chiede a chi si è ammalato con chi ha avuto contatti nelle settimane precedenti quindi si va a guardare eventuali colleghi amici familiari se si è andati in qualche posto particolare si è pensato di sfruttare anche la tecnologia per integrare queste informazioni per quale motivo immaginate un lavoratore che va a lavoro la mattina prende i mezzi pubblici prende un taxi prende un treno e così via non conosce non è in grado di fornire informazioni su chi ha incontrato in quei momenti un app di questo tipo si è pensato potesse aiutare a ricostruire quei contatti quelle esposizioni al virus di cui noi non ci siamo potuti rendere conto perché non ci rendevamo conto di essere vicino a qualcuno che era contagiato e c'erano diverse tecnologie che si potevano usare per fare questo tipo di applicazione immuni ne ha scelto una non dopo alcune polemiche che sono come dire durate qualche giorno nella sfera sociale dell'italia allora andiamo a capire come funziona quella tecnologia coinvolta all'interno di immuni allora essenzialmente la scelta fatta per immuni è stata quella di utilizzare il bluetooth low energy che è una funzione presente in tantissimi smartphone prodotti negli ultimi cinque anni contano davvero sulla vita di una mano gli smartphone anche recenti che non hanno a bordo il bluetooth low energy si è scelto di usare questa tecnologia che di fatto permette di dire a tutti e io sono qui e io sono qui e di non sfruttare il gps perché si è pensato che potesse essere troppo lesivo della privacy immuni ok ma non si vede lo schermo lo schermo si vede seguimi dai facciamo ogni volta questa storia lo schermo si vede perfettamente dicevo qual è il discorso che si è fatto per ciò che riguarda immuni si è scelto di utilizzare il gps non usare chiedo scusa il gps perché si è pensato che fosse troppo lesivo della privacy delle persone sarebbe rischiato di sapere esattamente tutti dove sono in realtà non sappiamo bene come fosse all'inizio immuni perché immuni è frutto di un bando di gara di fatto una procedura molto rapida di selezione che ha avviato il ministero per l'innovazione e che ha visto di fatto la fine scegliere immuni come l'app da sviluppare ed è stata modificata in corso per poter utilizzare un protocollo che verso la fine di aprile è stato annunciato da apple e google di cosa stiamo parlando io sapevo che partiva google in qualche modo lo vado a uccidere e cosa stiamo parlando di fatto e poi le google hanno detto vabbè ce ne freghiamo che cosa hanno detto i due grossi colossi della silicon valley così non li nomino direttamente ha detto non ci vogliamo affidare alla interpretazione che fanno i diversi governi diversi stati di come fare il contact tracing vogliamo sviluppare un protocollo unico centralizzato che realizzi quella che noi riteniamo sia la soluzione migliore per il contact tracing e che a questo punto ci garantisca rispetto alla come dire sicurezza dei dati dei nostri utenti e quindi io sono andato su twitch a controllare seguimi dai la prossima volta che mi fai queste cose ammazzo comunque dicevo hanno voluto realizzare questo protocollo che di fatto limita completamente l'accesso al sistema operativo rispetto all'utilizzo di queste app come funziona ci sono degli strumenti messi a disposizione da apple e google che permettono di attingere essenzialmente al bluetooth e al giorno in cui quel contatto bluetooth avviene quindi il sistema raccoglie informazioni su questi bluetooth che trova in giro l'immagazzina in modo pseudo anonimo all'interno del telefono in un ovviamente cassaforte sicura che cosa vuol dire pseudo anonimo vuol dire che non c'è scritto che luca giovanni riccardino erano quel giorno in posto c'è scritto semplicemente che a un certo punto il giorno tot ha incontrato una serie di numeri una sequenza di numeri queste informazioni rimangono sul nostro telefono non si spostano non si muovono da lì nella malagurata ipotesi si scopra di essere ammalati di aver contratto il covid 19 quando andremo a fare gli esami necessari un operatore sanitario con cui avremo a che fare ci dirà per caso lei aveva per caso installato immuni in questi giorni se rispondiamo di sì ci verrà offerto di poter seguire una procedura che renderà possibile poi comunicare a tutti le persone con le quali siamo entrati in contatto che ci siamo ammalati di nuovo in maniera del tutto anonima cosa si fa si prende un numero che è l'unico numero visibile soltanto a noi dentro l'applicazione si comunica quel numero all'operatore sanitario che fa una roba su un computer a quel punto lui ci consente di eseguire l'operazione si deve schiacciare entro tre minuti un bottone che c'è dentro l'applicazione nella sezione segnala che ti sei ammalato e solo a quel punto parte un messaggio in realtà parte una volta al giorno vengono accumulato nel corso della giornata tutte le informazioni parte una volta al giorno verso tutti e si dice il numero 17454 bla 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 che è semplicemente una chiave che serve a risalire tutti i codici che sono stati generati dal nostro telefono si è ammalato se tu hai incontrato questa persona attenzione potresti esserti potresti doverti controllare su telefoni delle persone che sono state a meno di due metri per sì tra l'altro è anche una garanzia per poter chiedere la malattia per il lavoro esatto perché poi ci sono anche altre questioni legate a questo grazie per la segnalazione samuele c'è un'altra questione il ministero della salute ha deciso che qual è la finestra di esposizione minima che determina il rischio di contagio due metri per più di 15 minuti quindi se si sta a meno di due metri per almeno 15 minuti c'è il rischio che i droplet quelli che quando parliamo quando respiriamo quando eccetera eccetera e mettiamo nell'aria possono aver contagiato le persone attorno a noi poi ci sono tanti altri fattori se le persone stanno una di fronte all'altra se sono di spalle se sono nella stessa stanza se sono all'aperto ci sono tantissime altre questioni legate a questo singolo discorso tecnologico però bisognava fare un discrimine la tecnologia bluetooth tra l'altro non è precisissima nel misurare le distanze si è detto se due metri 15 minuti sono più o meno rientrano nella finestra allora c'è il rischio perché si è fatta questa decisione per ridurre al massimo i cosiddetti falsi positivi quindi il rischio che non si sia entrati veramente in contatto con qualcuno ma su 15 minuti di tempo se si è stato per 15 minuti a meno di due metri è molto probabile quindi si generano solo in quel caso le notifiche che poi danno accesso prioritario agli esami per accertare che se sia o meno stati contagiati dal covid 19 ci sono c'è il codice risorgente di immuni disponibili su github quindi si può andare a verificare come funziona l'applicazione sarebbe bastato fare quello rivolgersi a qualcuno con le competenze per farlo ma in fondo al sito di immuni viene riportato per semplicità una serie di informazioni che sono fondamentali immuni non sa chi sei non ti chiede il nome non ti chiede dove sei nato quando sei nato eccetera eccetera l'unica cosa che ti chiede la regione nella quale abiti e lo fa per avere un minimo di idee di dove ti trovi anche perché poi quando poi dovrai andare a fare eventuale comunicazione a un operatore sanitario servirà a sapere in quale regione appartieni visto a quale regione appartieni visto che il servizio sanitario adesso è gestito a livello regionale non ti chiede l'unore di telefono e non accede alla rubrica telefonica lo potete verificare voi stessi non ti chiede il tuo indirizzo email e non accede alle tue email di nuovo lo potete verificare voi stessi non sa chi è che incontri non sa dove lo incontri non sa quindi la posizione non conosce la tua posizione gps e non sa neppure esattamente l'orario a cui lo incontri perché le annotazioni di quei codici che vengono generati che vanno dentro il telefono non sono legate all'orario sono legate al giorno è una decisione che hanno preso di nuovo apple e google quindi ricapitoliamo e di nuovo c'è google che mi risponde ma non importa ricapitoliamo la situazione qual è abbiamo questa applicazione sviluppata prima da un'azienda che si chiama bending spoons che poi la cede gratis allo stato italiano che la finisce insieme a bending spoons aggiunge il protocollo sviluppato da apple e google per il contact tracing che loro chiamano exposure notification la mette a disposizione gratis di nuovo sugli store per il momento c'è su quello store di apple lo store di google ma ci sarà anche sullo store di huawei nel giro delle prossime ore questa applicazione utilizza soltanto il bluetooth è vero quando attivate il bluetooth su android vi chiede di attivare anche il gps lo fa perché gli sviluppatori di android hanno deciso di abbinare insieme le due funzioni per ragioni di sicurezza hanno pensato che fossero due tecnologie che dovessero essere garantite allo stesso livello di sicurezza e di privacy quindi se si attiva uno si attiva anche l'altra ma di nuovo se andaste a guardare il codice di immuni e se leggeste come fatto il protocollo sviluppato da apple e google scoprireste che non c'è assolutamente nessuna richiesta per ciò che riguarda il gps quindi anche questa informazione pubblica tra l'altro non volerla andare a guardare è una roba abbastanza scandalosa comunque questa applicazione cosa fa genera dei codici numerici casuali pseudo anonimi li condivide con tutti quelli c'è qualcun altro con la stessa applicazione raccoglie quell'info quel dato quel codice solo e soltanto quando quel codice resta visibile per più di 15 minuti e per una distanza stimata inferiore ai due metri lo registra in un elenco e lo conserva per massimo 14 giorni alla fine di questi 14 giorni lo elimina perché ormai è passato troppo tempo non c'è più il rischio che io possa essermi contagiato se quella persona non è non si è ammalata se nel caso sfortunato io mi ammalo vado a farmi controlli mi dicono che ho il covid e ho immuni posso decidere non è obbligatorio di informare tutti quelli che ho tenuto per più di 15 minuti almeno di due metri che del fatto che mi sono ammalato ma non arriva la notifica che luca si è ammalato arriva la notifica che dice un codice tal dei tali verifica sul tuo telefono se per caso l'ha incontrato si è ammalato potresti doverti controllare a quel punto riceverete una notifica sulla vostra applicazione immuni e con quella notifica potete andare alla vostra ast chiamatela come volete dire guarda è successa questa cosa che succede adesso e loro vi diranno beh signore o signora adesso la controlliamo altra questione quante persone devono usare immuni allora c'è un'interessante riflessione ed è la prima segnalazione che vi ho fatto oggi nell'elenco delle notizie che è un interessante riflessione fatta dal professor stefano de nicolai che è un docente io conosco personalmente quindi lo dico subito ci conosciamo ci diamo del tu però è un professore universitario che insegna all'università di pavia questo professore ha fatto una riflessione molto interessante su la percentuale di utenti che devi installare immuni le stime iniziali parlavano circa il 60 per cento della popolazione perché questa app fosse efficace ci sono altre stime che girano il 30 per cento il 15 per cento eccetera eccetera la prima cosa da dire è che non è una maratona che lo scusa non sono i cento metri è una maratona lo sviluppo di immuni non è tardivo lo sviluppo di immuni è stato fatto il più rapidamente possibile ma non ci serve per gestire la fase 1 la fase 2 immuni si servirà da qui ai prossimi mesi perché purtroppo si stima si ritiene che entro l'autunno avremo di nuovo un aumento dei casi di infezioni covid 19 quindi non ci interessa quanti milioni di persone l'hanno scaricata il primo giorno comunque in due tre giorni di tempo considerato che c'era di mezzo il ponte festivo e considerato che non c'è stata fatta ancora non è stata fatta ancora una campagna media importante che dovrebbe partire nei prossimi giorni due milioni di persone che scaricano l'applicazione mi sembrano comunque un ottimo valore forse saranno anche di più a questo punto quello che ci interessa però non è che siano due milioni adesso quello che ci interessa è che siano due milioni 10 milioni 15 milioni il 30 di agosto magari cioè quando comincerà la stagione autunnale per così dire e a quel punto ci dovremo preoccupare di eventuali ulteriori crescite delle diffusione del virus covid 19 quello che dice il professor de nicolai è molto interessante dice è vero l'ideale sarebbe che ce l'avessimo tutti installata immuni e se ciò non avvenisse beh tutto dipenderà da quanto immuni sarà diffusa all'interno di alcune specifiche comunità se tutti i cittadini di milano quindi una città molto grande tutti i cittadini di roma di napoli di torino o se una grossa parte di queste popolazioni installasse immuni sarebbe un ottimo risultato perché significherebbe che nei posti dove c'è il massimo scambio possibile di infezioni dove ci sono tante persone in metropolitana nei mezzi pubblici negli uffici nei negozi quindi i posti dove c'è tanta folla se l'adozione in questi grandi centri fosse molto buona avremmo sicuramente dato un contributo significativo al contact tracing che ripeto non è soltanto fatto di immuni è un pezzo che dovrebbe aiutare lo dicevo all'inizio poi ci dovrà essere anche il contact tracing quello umano quindi io ti fermo e ti chiedo tu chi hai incontrato con chi sei stato a contatto hai frequentato qualcuno in questo periodo quindi è un pezzo dicevamo se la diffusione nei grandi nelle grandi città fosse ampia sarebbe un'ottima notizia se nei piccoli centri ciò non avvenisse il paese piccolo da mille abitanti sarebbe un problema molto inferiore per ciò che riguarda l'adozione di immuni perché il contact tracing tradizionale quello fatto con le telefonate con le domande alle persone in un posto molto piccolo ci sono poche persone è molto più semplice che in una grande città quindi oltre a dire che devono essere tante persone installarlo ci dobbiamo ci dovremo preoccupare anche di dove e chi lo andrà a installare e come dice samuel anche se poi lo continuano a utilizzare ma ci auguriamo visto che io ho fatto diverse prove installato immuni su tanti smartphone onestamente io impatto sulla carica della batteria non l'ho visto ieri sera facevo vedere i risultati ottenuti con questo che il motorola edge quindi un telefono sì decisamente nuovo decisamente recente su cui è installata immuni ed è perfettamente funzionante e posso dire che tra l'altro avendolo installato su tanti telefoni qui in casa almeno 3 o 4 si scambiano continuamente messaggi quindi se mi ammalo verrò notificato soltanto io perché tanto sto in casa però dicevo non ho visto un impatto significativo sull'autonomia della batteria anzi sto cavolo di motorola edge non finisce mai la batteria questo significa che probabilmente è stata ben lavorata ben realizzata aveva qualche difetto qualche bug sta avvenendo eliminato questo bug sarà importante che tante persone scarichi installino attivino e utilizzino immuni e sarà tanto più importante quanto più sarà diffusa nei grandi centri dove ci sono tante persone che si incontrano quindi attenzione l'esempio che utilizza il professor de nicolai che la nostra società non è una diga ma è fatta a tubi quindi noi passiamo dentro questi tubi non siamo tutti accumulati dietro una diga che poi deve aprirsi e scaricare tutto il suo contenuto si samuel in realtà non era legato ai play service su huawei era legato a come veniva gestita dal controllo dell'energia in background ma è esatto dici bene è stato risolto da ieri è tornato tutto funzionante su huawei honor e su tutti gli altri smartphone e quindi l'esempio che usa il professore è quello della tubatura e non della diga io vi invito a leggere questo contributo del professor de nicolai è un professor universitario è una persona intelligente assolutamente molto preparata fa delle considerazioni utili a capire come deve funzionare immuni ripeto immuni è una tecnica è una tecnologia pensata per aiutare nel contact tracing è stata realizzata seguendo un protocollo fissato creato realizzato da apple e google lo hanno fatto per cercare di garantire al massimo la privacy utilizza unicamente il bluetooth low energy tutti i dati rimangono sul vostro telefono l'unica cosa che eventualmente potrà uscire dal vostro telefono se vi doveste ammalare è un singolo codice che serve a comunicare a tutti che vi siete ammalati ma non verrà detto chi si è ammalato verrà soltanto detto attenzione in una certa data hai avuto un contatto con una persona che adesso si è ammalata vatti a controllare perché potrebbe darsi che siccome sei stato molto vicino per molto tempo a quella persona anche tu possa aver contratto il covid 19 e servirà a fermare la catena del contagio in maniera tale che se io mi sono ammalato non lo so ancora sono ancora sintomatico non possa andare in giro a infettare altre persone è ovvio ed è scontato che per quando l'app sarà pienamente funzionante parliamo quindi tra circa una settimana in cui tutte le varie i vari servizi sanitari regionali avranno attivato la parte di back end che serve a gestire appunto le segnalazioni di chi si ammala è ovvio che per allora e soprattutto per l'autunno quando sarà davvero importante tenere sotto controllo l'epidemia se dovesse riprendere in maniera molto violenta ci auguriamo che per allora siano stati messi in funzione tutto tutte le misure a contorno di questo sistema ovvero la possibilità di accedere rapidamente e di avere risultati in tempi certi e rapidi per i tamponi la disponibilità di i cosiddetti dp mascherine gel guanti camici calzari tutto quello che serve per noi cittadini e per gli operatori sanitari che stanno negli ospedali nell'rsa eccetera eccetera ci auguriamo che tutto questo vada a dama nel giro di poche settimane si sta lavorando per questo non è una gara dei 100 metri una maratona immuni è partita è partita prima che in altre nazioni e vediamo dove si andrà a parare l'importante è che quante più persone ne parlino con cognizione di causa si informino su come è realizzata capiscono qual è la tecnologia che c'è dietro capiscono che è stata resa sicura perché è stato deciso di utilizzare un protocollo che rispetta il più possibile la privacy esistevano altre soluzioni soluzioni decisamente più invasive con gps con l'identificazione di chi utilizzava l'app quella avrebbe avuto un'utilità maggiore rispetto a immuni però si è scelta questa strada che è molto garantista sono contento che sia stata scelta questa strada molto garantista nei confronti della privacy dobbiamo piano piano cominciare ad utilizzarla sempre più persone perché così quando arriverà se arriverà speriamo non arrivi il momento in cui riaumenteranno le infezioni avremo uno strumento in più per il contact tracing ma non è l'unico strumento per il contact tracing a questo vanno unite altre altre operazioni altri processi alcuni realizzati poi da esseri umani che chiederanno se hai incontrato i tuoi colleghi se hai incontrato i tuoi familiari se hai incontrato i tuoi amici dove sei stato dove sei andato a cena eccetera 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 dati devono raccogliere i ristoranti dati devono raccogliere altri tipi di strutture tutte queste informazioni insieme serviranno a tenere sotto controllo le catene del contagio volevo parlarne poco ne ho parlato per 25 minuti mi scuso se sono stato lungo spero di essere stato abbastanza chiaro è una tecnologia sicura rispettosa della privacy che non impatta in maniera decisiva sulla batteria del vostro smartphone funziona praticamente su quasi tutti gli smartphone quelli più vecchi di cinque anni purtroppo non è una decisione che ha preso lo stato italiano o immuni è una decisione che hanno preso google ed apple assieme per cercare di come dire circoscrivere quello che dovevano aggiornare sistemare per far funzionare questa tecnologia di loro la chiamano exposure notification purtroppo queste limitazioni non le abbiamo decise noi sta di fatto che parliamo comunque di tranquillamente l'ottanta 90 per cento dei dispositivi in circolazione che possono essere aggiornati e possono essere possono montare immuni e se li installiamo tutti staremo tutti un pochino non tanto un pochino più tranquilli ringrazio il professor stefano de nicolai per aver trovato il tempo di cercare di spiegare qual è poi il discorso della percentuale di adozione di immuni tra la popolazione